Cosa si prova in questi momenti dopo aver portato a casa la vittoria del Leopoldo? Io provo solamente una grande soddisfazione, un grande senso di rivalza verso tutte quelle persone che hanno dubitato di noi e che continuamente hanno cercato di buttarci giù. Questa è la nostra risposta e direi che non ce n'è una migliore. Io sono al settimo cielo, non ho parole per descrivere questa squadra e la gioia che provo in questo momento. Uniti e compatti quando Salerno ha recuperato, ha rosicchiato punto dopo punto arrivando a meno uno. Sì esatto, questa è stata la nostra forza da quando ci hanno ripescato ad adesso. In tutti questi playoff siamo stati una squadra, con la S maiuscola abbiamo fatto dei playoff da... non mi viene la parola perché te lo giuro abbiamo giocato talmente bene tutti, senza egoismi e cose così. Infatti ce lo meritiamo, ce lo meritiamo tutto. In gara 3 siamo andati di tanto sopra perché loro nell'ultimo quarto hanno risparmiato le energie per essere carichi per gara 4 e invece quest'ultima gara è stata molto combattuta, loro sono stati davvero degli avversari temibili. Abbiamo combattuto fino all'ultimo secondo e abbiamo vinto. Ora tra qualche giorno si potrà recuperare e poi ci sarà questa nuova avventura a Montecatini. La Serie A è un po' più vicina? Sì è un po' più vicina però per noi non è finito nulla. Noi siamo contentissimi, stasera festeggeremo fino alla morte ma da domani si continua a lavorare. Noi fino a che non raggiungiamo l'obiettivo non ci fermeremo. Grazie. Grazie a tutti.